Ben ritrovati ai telespettatori di Extra. Sarà una puntata con un format diverso rispetto a quello abituale. Una puntata in esterni per proporvi le ragioni dei due comitati che si contrappongono per il referendum sull'esternalizzazione del servizio del forno crematorio a Verbania. I verbanesi infatti sono chiamati alle urne nella giornata del 17 aprile per decidere su quella delibera che vuole esternalizzare questo servizio. Ma cominciamo con un servizio che ci dà un po' il quadro della situazione ed è anche una sorta di istruzioni per l'uso per chi dovrà andare a votare. Domenica 17 aprile sono convocati i comizi per lo svolgimento del referendum comunale abrogativo sull'esternalizzazione del forno crematorio di Verbania. Il quesito del referendum è La votazione si svolgerà nel solo giorno di domenica 17 aprile, avrà inizio alle 7 e si concluderà alle 23 per l'abbinamento al referendum nazionale abrogativo concernente le trivellazioni in mare. Lo spoglio delle schede avverrà dopo la chiusura dei seggi, immediatamente dopo lo scrutinio del referendum nazionale. I cittadini iscritti nelle liste elettorali voteranno presso il proprio seggio di appartenenza indicato nella tessera elettorale in loro possesso. Gli elettori che risultano sprovvisti della tessera elettorale potranno fare richiesta di un duplicato rivolgendosi all'ufficio elettorale del comune di Verbania. I cittadini residenti nel comune di Verbania, non iscritti nelle liste elettorali, potranno solo per questo tipo di elezione esprimere il loro voto nel seggio elettorale numero 1 nella scuola elementare Guglielmazzi di Pallanza. Saranno ammessi al voto tutti coloro che alla data del 18 marzo risultino residenti nel comune di Verbania e che hanno compiuto 18 anni alla data del 17 aprile 2016. Per poter votare i cittadini dovranno munirsi di un valido documento di riconoscimento. Il referendum è dichiarato valido se si presenta al voto il 50% degli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni e a esito favorevole si ottiene la maggioranza dei voti validi. E ora sentiamo le ragioni dei due comitati. Di prima diamo voce alle ragioni del Sì, subito dopo sentirete i protagonisti, coloro che hanno animato il comitato dell'astenzione. Tra le ragioni del comitato del Sì porta a suo sostegno ce n'è una di carattere sanitario. Qual è? Sì, il problema è che il forno è posizionato in un quartiere come quello di Sant'Anna, che è un quartiere densamente popolato e i fumi che già produce oggi il forno crematorio si respirano sia a Sant'Anna che in tutta la città. È facile vedere anche nei balconi delle case di Sant'Anna la polvere che si deposita, la cenere che si deposita e ampliare, quindi fare una seconda linea di questo forno crematorio potrà sicuramente più inquinamento in una zona che è già pagato anche perché abbiamo avuto decenni di industria che l'hanno penalizzata fortemente. In più, mettendo la seconda linea, avremo più cremazioni rispetto a quelle attuali che sono 1.300. Noi ricordiamoci che il fabbisogno di Verbania è di appena 200-250 cremazioni l'anno. Già ad oggi ne facciamo 1.300 con una potenzialità del forno di 1.800 cremazioni l'anno. È possibile ed è molto probabile che con un'esternalizzazione il privato per fare business aumenterà di molto il numero delle cremazioni anche sopra le 1.800 e quindi penalizzerà ulteriormente questo quartiere. Dunque è una questione ambientale anche? È una questione ambientale anche perché bisogna tenere presente che ci possono essere tutti i filtri che si vuole ci possono essere tutte le normative del caso ma comunque i fumi che respiriamo non sono privi di inquinamento sono fumi a norma, il che significa che noi continuiamo a respirare le parti a norma di quei fumi. Il Comitato del Sì nasce per chiedere il ritiro della delibera con cui si è arrivati a proporre alla città questo nuovo forno crematorio. Entriamo nel merito tecnico-amministrativo del problema? Certo, innanzitutto mettiamo i puntini sull'EI ma più che proposta è una scelta obbligata da parte dell'amministrazione che ha imposto al Consiglio Comunale di votare un documento. Questa imposizione ha fatto sì che il PD ad oggi si accorgesse che c'era qualcosa di strano che non andava e nonostante i più di mille firmatari che hanno sposato l'idea del Comitato per il Sì a referendum hanno cercato di portare un documento in Consiglio Comunale che però mette una pezza ma non toglie il problema. Con questo documento si va ad annullare una parte della delibera di Consiglio Comunale ma non si risolve il problema alla radice. Il problema è uno solo. A Sant'Anna, che ha già pagato troppo dal punto di vista ambientale in questi anni gli si va a mettere un forno molto più grande perché non è stata stabilita la soglia delle 1800 cremazioni quindi nel prossimo futuro la prossima decisione potrebbe essere anche di farne 2000 o 3000 o 4000 cremazioni. In più non sono stati messi i paletti sulle entrate per il Comune quindi ad oggi abbiamo ancora una scatola chiusa. Quel documento sulla carta può sembrare bello ma nei fatti non rende niente e la dimostrazione l'abbiamo avuta sul Palazzo Pretorio dove il PD ha avuto lo sgambetto da parte del Sindaco dove gli era stata detta una cosa e ne è stata fatta un'altra e ad oggi ne pagheremo le conseguenze. Sul forno noi non vogliamo subire la stessa sorte e quindi chiediamo a tutti innanzitutto di andare a votare perché è un modo per partecipare e per non doversi lamentare dopo. Inutile dire potevano fare e non potevano fare. Bisogna andare a votare perché è un diritto e dovere. Chi si contrappone alla vostra idea dice che a modernare il forno esistente chiederebbe costi elevatissimi rispetto a un nuovo progetto. Ma questo non è vero. Il forno che c'è ad oggi, la tecnologia è la stessa ad oggi. Se il comune volesse veramente rifare un forno nuovo, premesso che può andare avanti ancora due o tre anni, se vuole fare un forno nuovo può farlo con le stesse numero di cremazioni a un costo molto più basso di quello proposto nel project financing. Nel project financing si parlava di 1.700.000 euro ma vuol dire che è un forno che fa almeno 4.000 cremazioni. Per un forno con gli stessi numeri che si fanno oggi bastano risorse molto molto più limitate. Anzi, aggiungo una cosa, se dicono che il nuovo forno porterà meno emissioni, ci saranno filtri che puliranno meglio, benissimo, ok, facciamolo nuovo ma manteniamo sempre 1.800 cremazioni, così che Sant'Anna non paghi ancora per l'inquinamento dovuto al forno. Se passasse il sì? Se passasse il sì, semplicemente il comune dovrà decidere di mantenere al suo interno il forno crematorio, mantenere al suo interno gli utili che dà il forno perché ad oggi, ricordiamo che rende 250.000 euro all'anno puliti, viene garantito un servizio per i verbanesi perché ad oggi 250 cremazioni sono di verbanesi, il restante, cioè arrivare a 1.200 che vengono fatte, sono di persone fuori da Verbagna, che arrivano già da fuori, da Milano, Varese e Biella. Quindi se vince il sì si cercherà di andare avanti con quello che c'è, migliorandole e mantenere le entrate per il comune, tutelando i cittadini. Al comitato del sì hai il concetto di privatizzazione che proprio non piace? Ma perché delegare al privato un settore strategico come quello del forno crematorio che dà un utile al comune di 250.000 euro all'anno, mediamente? Qui è il solito discorso che si fa, socializzare le perdite e privatizzare i guadagni. Bisogna smetterla. Perché dare a un privato quello che invece è un bene pubblico e un utile pubblico? Anche perché in Consiglio Comunale il sindaco parlava di 100-150.000 euro di introito nel caso di privatizzazione. Oggi il comune ne incassa 250.000. Perché privatizzare il lavoro e quindi abbassare i livelli di garanzia dei lavoratori che oggi sono comunali, dando invece il settore così importante al privato. E quindi un'altra perdita e diminuzione dei livelli di garanzia per i lavoratori. E poi la questione è che nel 2011 abbiamo fatto un referendum in Italia che diceva no alla privatizzazione dell'acqua ma anche no alla privatizzazione dei servizi pubblici. E quindi questo è un argomento su cui i cittadini a livello nazionale si sono già espressi. Passando anche la soglia del 50% che tutti invece davano come non superabile. Oggi noi chiediamo ai cittadini di Verbania di andare a votare perché è un diritto. È un diritto sancito dalla nostra Costituzione che è stata voluta con le lotte per l'emancipazione, con le lotte della resistenza e che hanno dato il diritto di voto a tutti i cittadini. E quindi questo è il primo motivo. Ma il secondo motivo è perché la partecipazione deve essere dei cittadini per le scelte importanti. Noi crediamo che questa sia una scelta importante, un settore strategico delicato che non si può delegare a un privato per fare utile sul caro estinto. Lei arriva addirittura ad ipotizzare fini diversi rispetto a questo progetto. Io faccio un'osservazione. Io osservo che stanno succedendo tante cose strane a Verbania. Non vedo più partecipazione. Vedo le commissioni che sono ridotte a avvallare, a semplicemente dire sì o no a quello che dice l'amministrazione e dicono ovviamente sì perché la maggioranza è di un certo tipo. E mi chiedo semplicemente ma a chi giova? A chi giova privatizzare un forno che dà utili? E come si fa ad argomentare che il pubblico non è in grado di gestire da solo e l'ha sempre fatto da decenni una struttura che è tecnologicamente tutto sommato semplice. A chi giova privatizzarlo e a chi giova non aprire la discussione. Abbiamo visto quanto la stessa maggioranza è andata in crisi facendo un ragionamento un po' più complesso e costringendo di fatto la Giunta a tornare sui suoi passi. Perché il project financing era un prendere o lasciare ma a scatola chiusa senza che nessuno sapesse niente. E beh chi era che io non sono tranquillo? Perché stanno succedendo troppe cose a Verbania che non mi lasciano tranquillo. Un argomento di cui si dibatte in città quello del referendum o forse poco conosciuto? È un argomento che si dibatte su vie traverse, nei social network è parecchio dibattuto. Stranamente la città, ma neanche tanto stranamente, il problema oggi è che la politica ha fatto un passo indietro. Siamo addirittura a comitati che propongono l'astensionismo. Siamo a una maggioranza che non difende le proprie scelte. È pericoloso quando la politica fa un passo indietro. Voi invitate i verbanesi ad astenersi da questa tornata referendaria. Sì, noi crediamo che sia legittimo a tutti gli effetti chiedere l'astensione. Lo prevede la Costituzione. C'è un quorum che sarà del 30% dei votanti alle ultime elezioni amministrative. E siamo assolutamente per un'astensione perché noi siamo a favore dell'esternalizzazione del forno. I motivi sono vari. Questo è un forno obsoleto, quello che c'è in questo momento, che funziona a Verbania. Ha dei consumi enormi, inquina e deve essere cambiato. Per cambiare questo forno ci vogliono almeno un milione e mezzo di euro perché non c'è solamente il forno da cambiare. C'è da cambiare la logistica, c'è da cambiare il posto dove è situato esattamente, c'è da costruire muri, c'è da costruire una nuova sala del commiato. Perché questa qua è indecente, è indegna. Uno che accompagna l'ultima volta l'estremo saluto da Cana Salma non può rimanere in quella sala del commiato. Dunque noi abbiamo fatto i conti che costa all'incirca tra un milione e quattro e un milione e mezzo. Il Comune non si può assorbire questi costi in questo momento. C'è una crisi enorme, entrano meno soldi nelle casse del Comune, sarà tolta la tasi. Praticamente o facciamo investimenti in un nuovo forno crematorio perché questo forno è da cambiare, oppure si faranno investimenti in altri posti. Noi crediamo che il forno crematorio non è un servizio essenziale per il Comune. Ci sono altri servizi essenziali che sono le strade, asili, tagli delle tasse, che sono le scuole, che è il lavoro. Dunque o sistemiamo il forno o mettiamo a posto il forno o riqualifichiamo la Sassonia per esempio, che non deve essere più un quartiere dormitorio, un parcheggio. O investiamo nel forno oppure mettiamo a posto Fondotoce, passaggi pedonali, riqualifichiamo Fondotoce con un bel progetto che ha fatto il quartiere Ovest per esempio. O investiamo nel forno oppure sistemiamo la scuola a Torchiedo come stiamo facendo adesso, come l'amministrazione sta facendo adesso. E' una questione di scelta. Il Comune non deve dare servizi che non sono essenziali. Noi crediamo che esternalizzare significhi poter dare servizi essenziali al Comune. Perché non è assolutamente vero che il Comune incasserà meno soldi. In effetti all'inizio ci potrà essere un minore guadagno, però visto che il fondo deve cambiare, il Comune deve investire assolutamente nel progetto. E' stata cambiata la delibera, è stata ritirata la delibera, dunque ci sarà una nuova delibera. Il Comune incasserà all'incirca, credo, 150 mila euro anni che sono sicuri ogni anno. E quei soldi saranno fatti per investire nella città di Verbania. Quali sono le ragioni che voi portate a sostegno della vostra tesi? Quindi per questo chiedete ai verbanesi di astenersi il 17 di aprile. Questo non è il Comitato per il No, questo è un insieme di persone che hanno creato un comitato che affronta seriamente la questione, nel senso che ha raccolto dati per poter portare avanti quella che è appoggiare, quella che è la deliberazione consigliare in merito all'esternalizzazione del forno crematorio che ritiriamo essere la scelta migliore per la città. Possiamo dire che innanzitutto il forno è un forno di vecchia generazione, ha 15 anni, è obsoleto e quindi è un forno che è poco efficiente ed inquinante. Noi abbiamo trovato su internet un'interessantissima relazione tecnica che peraltro viene usata da molte industrie e molte strutture fatta presso l'Università di Udine in cui si fa il confronto tra l'impatto di un vecchio forno e di un nuovo forno di nuova generazione. In questo caso è un forno di piccole dimensioni come quello paragonabile a quello di Verbagna. Per darvi un dato si parla di emissioni in termini di metri cubi all'ora di fumi e quindi di inquinanti. Ebbene, questo forno risulta che quello di nuova generazione ha un impatto inquinante centinaia di volte inferiore a due tipiche attività domestiche. Una stufa o un forno da legna, quale può essere quello di una pizzeria, o di un'automobile di media cilindrata a benzina verde. Quindi è stato stabilito che il forno crematorio di ultima generazione ha un inquinamento in termini di emissioni che è centinaia di volte inferiore a queste due attività. Il secondo dato che noi possiamo portare, per chi volesse, è che abbiamo avuto la possibilità di avere i dati di un forno di ultima generazione localizzato nella provincia del VCO di ultima generazione. E l'abbiamo confrontato con i dati di emissioni del forno di Verbagna. Anche in questo caso risulta che il forno di ultima generazione ha delle emissioni che sono nettamente inferiori a quelle del forno di Verbagna. Ma questo va da sé. Vi faccio un esempio banalissimo. Un'automobile Euroumo è fuori di dubbio che emette inquinanti molto più di un'auto Euro 6. Questo è lo stesso confronto. Dati alla mano noi possiamo dimostrare queste informazioni dicendo che il forno di nuova generazione emette meno del forno di Verbagna. Questo anche considerando un aspetto che la portata del forno di ultima generazione localizzato nel VCO ha una portata doppia rispetto a quello di Verbagna. Il che significa che ha un numero doppio di cremazioni. Ciò nonostante la portata degli inquinanti risulta essere inferiore a quella di Verbagna. Direi che questo taglia la testa al toro in termini di emissioni di un nuovo forno di ultima generazione. Un'ultima considerazione. Sulla scorta di quanto detto, quando anche il nuovo gestore privato portasse le cremazioni dalle attuali 1200 a 1800 cremazioni, l'impatto degli inquinanti non cambierebbe perché con i dati che vi ho portato ho dimostrato che anche un numero doppio di cremazioni rispetto all'attuale di Verbagna determina una emissione che è comunque inferiore a quella attuale. Poi voi contrapponete anche dei dati economici. Esatto. In pratica si è rilevato, come è stato giustamente detto, che l'utile, la differenza tra ricavi e costi della gestione dell'attuale forno di Verbagna è stata per il 2013 di circa 250 mila euro, poco meno nel 2014, ma nel 2015 si è attestata a 200 mila euro con una riduzione del 20%. Ora, siccome l'investimento previsto per la riqualificazione del vecchio forno e l'adeguamento tecnologico ammonta a circa un milione e mezzo di euro, perché il tutto non si riduce soltanto all'acquisto del forno, ma alla creazione del locale tecnico, delle nuove celle fiergorifere, del nuova sala commiato, di tutte le opere ediri e di tutti i permessi, per un totale di circa di un milione e mezzo. Ora, a fronte di un costante decremento degli utili, questo investimento verrebbe rientrato, si rientrerebbe, nell'arco non di tre anni, come qualcuno dice, ma nell'arco di almeno 8-10 anni. Di conseguenza il sistema crematorio rischierebbe di implodere se questo utile si riducesse ulteriormente. Viceversa, esternalizzare il servizio, dandolo in gestione a un privato, comporterebbe una serie di benefici. Innanzitutto un investimento importante dell'entità del milione e mezzo di cui parlavamo, che poi rimarrebbe a beneficio di tutta la città, anche in futuro, anche al termine dei 30 anni di gestione. Un canone che ogni project financing deve prevedere al giorno d'oggi, corrisposto dal privato al comune. Un terzo aspetto è la gestione e la manutenzione del forno crematorio a carico del privato. E infine, come è stato anche proposto anche da alcune minoranze consigliari di Verbagna, la gestione e la manutenzione dei servizi cimiteriali, costo di cui l'amministrazione verrebbe sgravata. Un'ultima osservazione, un forno di questo tipo, di nuova concezione, comporterebbe presumibilmente l'assunzione di nuovo personale. Anche se fosse uno, sarebbe personale assunto sul territorio di Verbagna e comunque non a carico del comune di Verbagna ma del privato gestore. Allora è tutto per questa puntata di Extra, grazie per essere stati con noi. Come sempre l'appuntamento è fra sette giorni. Vi lascio ai programmi della rete. Buon proseguimento.